Buongiorno a tutti, sono Francesca Genovese e sono il direttore al Casale dello Sparbiero, un'azienda agricola a Castellini e Inchianti a Siena, che lavora con me, una squadra di giovani. Ci sentiamo veramente un unicum, duttile e coeso. Le aziende agricole sono delle creature vive, che negli anni hanno passato grandi cambiamenti. Si sono dimostrati resilienti e noi allo Sparbiero guardiamo alla natura, guardiamo a tutto quello che succede intorno e cerchiamo di preservarla, ma anche di essere in armonia con essa. Il nostro vino vuole essere proprio come lo Sparbiero, un simbolo di eleganza e di potenza, un crocevie tra la tradizione e l'innovazione.